Potenziare l'ospedale di Giulianova con più personale medico ed infermieristico, evitare che alcuni reparti vengano accorpati come già accaduto in passato, garantire tutti i servizi durante la stagione estiva. Richieste precise che arrivano da Margherita Trifoni, capogruppo del Movimento 5 Stelle di Giulianova, che ha chiamato in causa la direzione generale della ASL di Teramo. La consigliera comunale chiede attenzione nei confronti della struttura sanitaria giuliese, considerata baricentrica rispetto all'intera fascia costiera della provincia di Teramo. La Trifoni ha ricordato che l'ospedale Maria Santissima dello Splendore nel periodo estivo ha sempre registrato un aumento delle prestazioni erogate per via dell'incremento demografico che si verifica proprio durante l'estate e che interessa comunque l'intera fascia costiera. Nel presidio ospedaliero della nostra città, sottolinea l'esponente del Movimento 5 Stelle, nonostante i tagli subiti, nonostante gli accorpamenti dei reparti durante le stagioni estive passate, nonostante i finanziamenti attualmente congelati, sono presenti alcune specifiche fondamentali necessarie a dare risposte immediate ad un'utenza esponenzialmente incrementata, assicurando comunque i livelli essenziali di assistenza. Margherita Trifoni bacchetta in qualche modo la direzione generale della ASL di Teramo, accusandola di prestare poca attenzione nei confronti della struttura sanitaria di Giulianova e rivolge un accorato appello al fine di scongiurare altri accorpamenti, sollecitando quindi l'organo competente affinché vengano adottate le misure necessarie per incrementare il personale infermieristico ed ausiliario in considerazione anche delle ferie estive. Misure che serviranno anche a scongiurare, conclude la Trifoni, ulteriori riduzioni dei servizi in un momento in cui l'ospedale soffre già per una permanente insufficienza di personale medico e paramedico.